Ciao ragazze, allora appena finito di fare questo tutorial e siccome sono super entusiasta del rossetto ho deciso di farvi vedere un po' le cose che ho comprato ultimamente tra cui appunto questo rossetto in realtà sono poche cose e lo dicevo anche l'altro giorno su facebook c'è qualcosa che non va in me ultimamente, vi confesso, perché sono andata a fare un po' di shopping l'altro giorno a Milano cioè sono andata con l'idea di fare un po' di shopping, volevo comprarmi un po' di vestiti adesso che ci sono i saldi, approfittare e niente, sono tornata a casa solo con questo quindi non lo so, c'è qualcosa di strano, ecco ultimamente non mi sento molto ispirata dalle cose che hanno i negozi però vabbè, sono andata alla MAC e ho preso tre rossetti, perché ultimamente sono fissata con i rossetti specialmente i rossetti matte, da quando ho preso il Ruby Woo della MAC mi stanno piacendo tantissimo i rossetti opachi e allora vi faccio vedere quali ho scelto questo che ho su, che sto adorando e si chiama Kinda Sexy questo qua ed è un bellissimo colore e tra il nude e il marroncino guardate che bello eccolo qui a me piace tantissimo perché rimane comunque un colore molto molto caldo e è appunto un rossetto opaco però è facile da, è facilissimo da stendere, non è come i Ruby Woo scorre facilmente poi ho preso il Ravishing e questo, se ricordo bene, è sul arancio corallo sì, guardate che carino adesso per la primavera questo qua secondo me è fantastico perché mi viene da mettere la mano così? questo arancio corallo aspettate che lo provo sulla mano, così almeno lo vedete bene questo invece dovrebbe essere questo è un cream sheen bellissimo questo qua voglio fare un trucco per la primavera perché secondo me è adatto come colore e poi ho preso questo che si chiama Please Me Please Me questo sul rosa mi è venuto fuori strano questo nome e anche questo è un matte è opaco ed è questo bellissimo fantastico rosa e ve lo faccio vedere sulla mano bellissimo rosa fantastico che non è troppo acceso eccolo qua e poi i rossetti opachi non lo so sono un po' più più eleganti più fini mi stanno piacendo di più i rossetti opachi in questo periodo e poi ho preso anche sempre alla MAC il correttore un altro questo qua è sempre lo studio finish ed è l'NC20 e l'ho preso perché io ho l'NC25 e volevo ho l'NC25 e ho anche l'NC30 e quindi volevo uno che fosse bello bello chiaro infatti questo qua è molto chiaro però considerando che il mio fondotinta è l'NC25 volevo appunto come correttore l'NC20 che è questo vedete che è abbastanza chiaro e ce l'ho su in questo momento ho fatto il tutorial quindi potete vederlo in azione e poi stamattina sono andata all'OVS e questi sono i prodotti che volevo tanto mostrarvi perché me li avete consigliati voi nel video test il video test con l'ombretto della MAC quello in crema che era andato malissimo tantissimi di voi mi avevano consigliati questi ombretti in crema della Essence Stay All Day e quindi sono andata a prenderne un po' perché mi fido della vostra opinione e allora ho preso questo questo argento questo è l'argento un po' più scuro perché c'è anche quello più chiaro giusto e questo è il Camp Rock numero 5 poi questo argento più chiaro appunto e questo è il numero 4 Stars and Stories questo argento chiaro e ho preso questo che è il numero 02 Glammy Goes To ed è questo bronzo questo oro diciamo poi questo bronzo appunto che è il numero 01 ci sto andando indietro iniziato dal quarto 3, 2, 1 ok il Copyright Copyright sì così si chiama questo bronzo e poi ho preso il numero 3 aspettate adesso Honorine in diretta scopre di aver preso dei doppioni no non è un doppione il numero 3 è Still The Show che è questo questo è un po' difficile da descrivere è un grigio talpa non lo so è il 3 molto bello però e poi l'ultimo il 06 cioè praticamente ne ho presi tutti i 6 dal primo al sesto il Rock Chic che è questo nero grigio scuro questo qua e questi sono gli swatch guardate che belli che sono guardate che belli guarda che belli che sono Honorine perché voi li conoscevate già e mi piacciono molto adesso li indosserò vedrò un po' insomma e volevo farvi vedere un po' anche i prodotti che sto utilizzando per i miei capelli perché ho preso alcuni prodotti da natura sì però sto pensando di farveli vedere in un altro video in cui vi parlo magari solo dei capelli della situazione dermatite perché tantissime ragazze ho scoperto che tantissime ragazze non hanno dermatite quindi non so conviene magari che ve li faccia vedere in un altro video così se anche dura 12 minuti va benissimo e niente io vi saluto vi ringrazio per questo consiglio sono veramente fantastici debilissimi colori io vi mando un bacio con le mani tutte sporche ora vado a lavarle e noi ci vediamo la prossima volta ciao mi piace con il marrone sta molto bene secondo me ciao ciao ciao